Siamo qui proprio perché in questo momento le nostre segreterie nazionali di SLC-CGL, Fistel, CISL e Wilconwill sono a Roma per incontrare il Ministro del Lavoro sul settore dei call center in specifico. Un settore che nel corso di questi ultimi anni ha vissuto una terribile battuta d'arresto, sia per quanto riguarda i diritti di lavoratori e lavoratrici che per quanto riguarda le loro retribuzioni. È un settore nel quale c'è stata molta occupazione nei tempi passati che in questo momento si è fermato. Ha bisogno di essere sostenuto, rilanciato, ha bisogno di formazione perché il call center avrà una trasformazione rapidissima nell'arco dei prossimi anni, ha bisogno di ammortizzatori sociali che consentano di contrastare le forti difficoltà che molte aziende stanno vivendo in questo momento.